Quello che mi sono sempre chiesto è perché non ci sia un servizio civile obbligatorio. Un'anaglia, un'anaglia civile obbligatoria, perché dovrebbe essere... Sì, perché l'anaglia è diventata una facoltativa. Perché non fa dovrebbe essere... dare proprio tempo per la società, anche se non in modo organizzato, come dici tu, ma organizzato un po' dall'alto, ovviamente. In compenso hanno aggiunto gli stegi non ritribuiti della scuola. Non hai almeno due soldi, te li dà. Ma comunque stai lavorando per il tuo paese, no per il McDonald's. Però quello non è vero. Eh, lo so.